Oggi felice perché abbiamo annunciato quattro festival, il festival dell'economia gratuito per avvicinare a Roma, il flamenco, il flamenco che si va a portare dalla Spagna, il retail che arriverà in città, il festival della Lituania puntando sull'internazionalità, abbiamo nomi grandi, italiani, gazze, consoli, silvestri, brunori sass, la manoia, internazionale, parliamo di Bob Dylan, di Anastasia, di Malikian, di Meldau, di Marcus Miller, parliamo che siamo a ottobre con il 8% in più di spettatori e il 9% in più di presenze e con gli studenti un 200%, stiamo lavorando e stiamo veramente puntando per la città di Roma, grazie. 15 anni di un anniversario straordinario per un luogo straordinario, un'istituzione che ha accolto negli anni centinaia, migliaia di artisti italiani e internazionali e che è stata scelta da milioni e milioni di spettatori, sinonimo di successo, di qualità e di accoglienza da parte del pubblico romano ma anche del pubblico italiano che lo ha scelto come uno dei suoi luoghi per incontrarsi, per divertirsi e per condividere le gioie dello stare insieme. Grazie Auditorium, buon compleanno a tutti. Grazie a tutti.